Una cosa bella, però falla bene. Lui è più storico di me, anche se è ragioniere. Io sono un operatore culturale, io promuovo il territorio. Perfetto, però fallo bene. Infatti ora ho messo i dubbi, avevo molte certezze che le hai sgregolate. Io vengo a parecchia culturale, non è che faccio altre cose. Dai, fai la fotografia suono.